L'incontro di oggi è sul tema di difendi il prezzo, un tema estremamente rilevante nell'attuale contesto perché è sempre più forte la pressione ovviamente nell'ottenere condizioni dai nostri fornitori di maggiore aggressività. Per difendere la marginalità è quindi necessario che chi vende abbia la consapevolezza di come utilizzare le giuste strategie e la giusta capacità di valorizzare quello che vende. Mi piace pensare che la negoziazione non è semplicemente un aspetto muscolare, è una questione di intelligenza, di capacità di ingaggiare l'interlocutore per poter arrivare a ottenere ciascuno per la propria parte il miglior risultato possibile e la garanzia di un buon affare per noi. Vi aspetto!